Il Portogallo trascinato da un super Cristiano Ronaldo si sbarazza della Svizzera e vola in finale di Nations League Buongiorno ragazzi sono Simon Signo Giallo Rosso ed oggi voglio parlarvi di questa partita internazionale Ma prima di farlo vi invito a lasciare un mi piace un commento, un'iscrizione al canale e anche un'iscrizione su Instagram Simon Signo-Basso Giallo Rosso È stata una partita abbastanza equilibrata, bella da vedere Nel primo tempo a mio avviso meglio la Svizzera ma passare in vantaggio è la squadra portoghese Grazie al genio della nazionale con Cristiano Ronaldo che su punizione prevede il movimento anticipato del portiere avversario E lo beffa sul suo palo Errore clamoroso però di Sommer che come detto poc'anzi si muove in anticipo e lascia passare la palla sul palo Che in teoria sarebbe dovuto essere coperto da lui Si rifarà nel secondo tempo con qualche discreta parata il portiere del Borussia Mönchengladbach Ma comunque quell'errore peserà veramente veramente tanto La Svizzera ha qualche occasione veramente ghiotta Mi viene in mente l'occasione avuta sui piedi di Shaqiri che poi ha scheggiato in croce di pali O l'uscita a vuoto di lui Patrissio che ha perso la palla dopo appunto un intervento basso Ma nonostante tutto il parziale a fine primo tempo rimane sempre di 1-0 per i padroni di casa Nel secondo tempo si arriva piano piano ad una fase cruciale in cui si poteva decidere in bene o in male per entrambe le squadre Il destino della partita e quindi anche della competizione perché vi ricordo è stata una partita secca in cui non c'era un domani Prima viene assegnato il rigore al Portogallo ma nell'azione precedente che ancora non si era conclusa Quindi diciamo ancora in gioco c'era stato un contatto tra Semedo e la punta della Svizzera Dopo vari controlli al VAR e dopo anche un lunghissimo silent check L'arbitro Brick decide di assegnare il penalty per la Svizzera Nonostante tutto nonostante anche il consiglio di Cristiano Ronaldo il penalty viene trasformato da Riccardo Rodriguez Qui c'è una fase di stallo perché nessuna delle due squadre vuole azzardare il movimento per rischiare di perdere Alla fine però si sveglia ancora una volta Cristiano Ronaldo risorge dalle ceneri E fa prima il gol del 2-1 sfruttando un'indecisione difensiva della Svizzera Dopo un cross perfetto raso terra di Bernardo Silva E poi dopo un errore clamoroso a centrocampo di Schaka In contropiede si distende il doppio pasto e poi tiro sul secondo palo dove Sommer proprio non ci può arrivare Affronteranno la vincente di Olanda-Inghilterra che si giocherà domani Vedremo un po' come andrà È una competizione comunque che garantisce l'accesso diretto all'europeo Vi invito a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale Ciao a tutti